Gubbio si prepara al ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno, quando i 27.255 elettori potranno scegliere tra Vittorio Fiorucci, che con 4.581 voti ha raggiunto il 25,29%, e Rocco Girlanda, che ha raggiunto il 21,53%, con 3.899 voti, a recarsi alle urne il 68,61% degli elettori, 453 le schede nulle e 124 le bianche, 10 invece quelle contestate. Il primo candidato è Vittorio Fiorucci, appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Gubbio Civica e Club Millennials. Sicuramente un grande risultato, frutto di un ottimo lavoro di tutte le nostre liste, della lista civica in primis. Gubbio vuole uscire da questo isolamento, vuole tornare al centro del dibattito istituzionale. Gubbio vuole una strada decente, Gubbio vuole vivere di turismo, Gubbio vuole le imprese. Crediamo che questi siano i punti cardine della nostra attività. 682 i voti presi in più da Vittorio Fiorucci rispetto a Rocco Girlanda, appoggiato dalle liste civiche Gubbio Democratica, Rinascimento Gubbino, Gubbio Viva e Baldinelli, alternativa per Gubbio. Abbiamo lottato come Davide contro Golia, con i grandi partiti del centrodestra e del centrosinistra. Io credo che l'unico dato vero da commentare sia il risultato umiliante per Vittorio Fiorucci che ha perso il 20% rispetto al voto dell'europeo. Certo pensare che il Partito Democratico che prende il 26% all'europeo e circa il 7% che sono dati più o abbozzati ancora non ufficiali. Quindi molto al di sotto di una delle mie liste civiche che è Gubbio Democratica mi dice che sbagliavo a non aspettarmi questo risultato. C'è amarezza intanto nel centrosinistra per gli altri quattro candidati. Alessia Tasso con 159 voti in meno rispetto a Girlanda valuta un riconteggio. Seguono Leonardo Nafissi, Francesco Della Porta e Gabriele Tognoloni.